Specifichiamo di nuovo che lui non riesce più a produrre testosterone naturalmente quindi deve stare per forza in TRT Bentornati ragazzi, rieccoci sul mio canale Oggi vorrei portarvi all'attenzione un video che è uscito poco fa di Larry Wheels dove dice appunto dal titolo che ha smesso di prendere steroidi appena ho letto questo titolo ho pensato sicuramente sarà la solita cretinata il solito video per far visual ma chissà cosa dirà insomma la sala girerà sicuramente a suo vantaggio ma continuerà a prenderli sicuramente e invece no il ragazzone invece, sembra sincero, ammette che vorrà andare in TRT adesso come vedremo insieme nel suo video specificherà quanti grammi, che periodi e che testa ha adesso e l'esperimento che vuole fare vediamo insieme So, much like you don't know, I don't know what I'm capable of off cycle Now, going completely off isn't an option for me I cannot produce testosterone naturally So, I'm going to be on testosterone replacement therapy I tried post cycle therapy several times when I first began cycling and I was unable to recover Now, TRT for me would be anywhere from as low as 70 mg a week I've heard even lower dosages to as high as 175 175, I believe being on the higher side of being a healthy natural meal in his prime So, I say I'll start with 175 and I'll get my bloods done So, I actually watched, sorry, read an article by More Plates, More Dates and he wanted his test levels in the 700s and he was on 100 mg, got his bloods done and it came up about 400 and some change but I think 175 is a good place for me to start and if I speak with my doctor and, you know, we get my bloods done and we see that it's more than what's necessary then I'll decrease it but I certainly won't increase it anytime in the near future So, what does this mean with my 1,000 pound deadlift? Well, I'm not calling it quits on it I am putting the brakes on attempting PRs like that at the moment So, you guys do know I have come off a back injury Luckily, it was a small grade 1 tear I'm already okay but does that mean the right answer is to jump into another extreme prep for a 1,000 pound deadlift? Probably not So, I actually want to take Greg Bouchette's advice and slow things down Stop being in such a rush Why do I have to do it right now? I'm 27 I can take my time It can be several years from now I'll still be in my prime I'll still be healthy As long as my heart's beating I can have a crack at it whenever I want PD's aren't going nowhere That 1,000 pound deadlift isn't going nowhere And for me, that's a lifetime achievement And it'll be Probably It will be The biggest feat of strength that I've ever done If I can do that And I'm in no rush to do it Because I've learned the hard way As coming up from my vacation Thinking I can resume my training Prior to me taking the vacation And I crashed and burned I tried to rush the training Because I had a few weeks left to work with Shouldn't have taken the vacation in the first place Regardless I did what I did Came back And tried to rush the process And got injured in the process So, that has taught me that I don't gain anything by trying to rush things If anything, I'm going to rush myself into an injury So, with that said More than that 1,000 pound deadlift For you to put it in my For you to understand my perspective Seeing what I'm capable of on TRT Is more of a priority to me Is more exciting It makes me feel invigorated Bene Ovviamente Io vi farò vedere Un po' il riassunto del suo video Come avete potuto vedere adesso Se vi interessa comunque vederlo tutto Vi lascio il link in descrizione Comunque Veniamo a noi Allora Ha detto appunto Un po' la sua storia Quello Che vuole fare Cioè Lui Ovviamente Non può Staccare del tutto Cioè Deve andare per forza In terapia sostitutiva del testosterone Proprio appunto Essendo stato sotto steroidi per tanto tempo Non riesce più A produrre testosterone proprio Quindi non può staccare Proprio totalmente Per questo la TRT Allora Studiando i dosaggi con il proprio medico Vanno dai 70 mg di testo a settimana Fino ai 175 175 Comunque come dice lui Ovviamente È vero Solamente Pochi Naturalmente Ci arrivano No? Possono vederlo Dalle analisi Adesso i mg Non combaciano Proprio Alla pari Però insomma L'idea è quella Quindi lui Partirebbe da una base Di 175 mg Che non aumenterà Quindi al massimo Facendo delle analisi Vedendo col suo medico Se magari risulta essere troppo Diminuirà Ma assolutamente Non andrà oltre E vuole fare questo esperimento Vedere Lui di cosa è capace Staccando gli steroidi Quindi andando in TRT E vedere appunto Quanta forza ha Se riesce comunque A fare stacchi Di un certo tipo Pesanti Se riesce Ancora A far braccio di ferro Contro di Kinson Vuole mettersi un po' in gioco E mi sembra Più che giusta Come cosa Ovviamente Ha specificato Che lui Ha già provato A staccare altre volte Ma non ha mai Recuperato Il suo livello Di testosterone Quindi ha avuto periodi Con 20 kg Anche in meno Dopo qualche settimana Che ha smesso il ciclo Ovviamente ha specificato Di aver fatto comunque Del PCT Fatte bene Ha avuto Ha spiegato Adesso non mi ricordo bene Il peso Che aveva Faceva da 5 ripetizioni Con se non sbaglio 220 250 kg Di panca E' arrivato a farne uno Che per noi Comuni mortali E' comunque tantissimo Però Insomma Ha già provato A staccare del tutto E quelli sono stati i risultati E dato che non è stato Nemmeno bene Vuole comunque rimanere In TRT E provare Specifichiamo Di nuovo Che lui non riesce più A produrre Testosterone Naturalmente Quindi deve stare Per forza in TRT E questo sarà Per un periodo Indefinito Continuerà A provare Si sforzerà Si impegnerà di più Sui recuperi Sulla dieta Su uno stile di vita sano Quindi si impegnerà Al massimo E vedere Di cosa è capace Idealmente Con un livello di testosterone Di un uomo adulto Poco sopra la mente Insomma Per lui E' importante L'obiettivo che ha Ovvero lo stacco Di 500 kg E' il suo obiettivo di vita Quindi lo vuole fare E sicuramente Tornerà A prendere steroidi Per arrivare a quel punto là Se non ci riesce Ovviamente In TRT Cosa che ritengo Improbabile Però insomma Nulla è impossibile Bene Siamo arrivati alla fine Larry Wills ormai In testa Il mio canale C'è sempre lui di mezzo Però Ovviamente Essendo un personaggio di spicco E sta Facendo questi esperimenti qua E' praticamente d'obbligo Portarvelo Non posso evitare Di portarvi lui Ecco Bene Io spero che Questo video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Ovviamente mettete like Iscrivetevi Al mio canale E ci rivediamo Al prossimo video Come sempre O di domenica O di lunedì Ciao ragazzi Alla prossima